Scegli o giardina e assapora la vita. Previsto per la serata di venerdì 26 agosto, l'abbraccio ideale tra la squadra della Cavese e il suo pubblico. Non si svolgeva in presenza da tre anni. L'ultima volta questo appuntamento si era tenuto al centro della città di Cava dei Tirreni, in piazza Vittorio Emanuele III nell'agosto 2019, quando l'allenatore era Francesco Moriero e quando della Cavese faceva parte gente come Marzoratti e Russotto. Venerdì invece la presentazione si terrà in una location apprezzata dai tifosi più accaniti della compagine Aquilotta, allo stadio Simonetta Lamberti, ma al lato della curva sud, perché la Cavese di mister Emanuele Truise dovrà meritarsi il sostegno soprattutto degli Ultras, con prestazioni e soprattutto risultati nel campionato di Serie D. Venerdì si comincerà alle ore 20 e la presentazione si svolgerà due giorni prima della gara di Coppa Italia di Serie D tra i Bianco Blu e il Nola, valevole come primo turno. Altre di di. Ieri mattina il Nola ha sostenuto piuttosto bene un allenamento congiunto con la Juve Stabia, pareggiando per 0-0 ma creando molte occasioni da gol. Test da fischi per i gialloblè che però hanno dalla loro la scusante di aver continuato a costruire l'organico anche in questi giorni, quindi senza che tutto il gruppo abbia già potuto trovare un assieme. Mentre i Nolani sono apparsi più brillanti, avendo caricato di meno rispetto alla Juve Stabia sotto il punto di vista della preparazione. Domenica c'è appunto Cavese-Nola al Simonetta-Lamberti. In Coppa Italia di Serie D molte squadre campane hanno giocato il turno preliminare ieri sera e si sono registrate anche delle sorprese. A Pagani la Puteolana ha eliminato la Paganese, prevalendo ai rigori, 3-2 dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari. A Canosa il Barletta ha battuto il Matese 1-0 con gol dell'esperto Riccardo Lattanzio. Anche il Gladiator ha avuto bisogno dei rigori per eliminare il Cassino sul campo dei Ciociari. E infine a Mercato San Severino, campo neutro, l'Angri ha superato la Palmese ai tiri dal dischetto, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sullo 0-0. Proprio poche ore prima di questa gara, ieri mattina, allo Stadio Superga si era allenata la Cavese. Domenica 28 agosto ci sarà il primo turno di Coppa Italia DD. Oltre alla gara Cavese-Nola saranno previste, tra le altre, Santa Maria-Cilento-Lamezia-Terme, Sorrento-Nocerina, Reala-Versa-Gladiator, Casertana-Mariglianese, Afragolese-Puteolana, Portici-Barletta e Francavilla-Sussinni-Angri. Partite a eliminazione diretta, in caso di parità si andrà direttamente ai rigori. Chi vincerà andrà al secondo turno, chi perderà resterà fuori dalla competizione. Grazie. Grazie.